ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con un nuovo video partiamo così con un po di carica perché oggi una giornata un pochino strana per me sono delle giornate un pochino dove non farei niente dormirei e basta un po di tristezza un po di depressione non lo so quindi cerchiamo di tirarci sul morale allora vi voglio già anticipare che per i prossimi mesi se tutto prosegue per come l'ho pensata mi vedrete sempre e solo con il cappellino perché ho deciso ragazzi di cambiare capelli di cambiare capelli di cambiare il taglio di capelli e siccome mi serve farli crescere per quello che voglio fare come sapete io qua i lati li ho corti sopra li ho più lunghi o un disastro di conseguenza sembrerò tipo un fungo a un certo punto un qualcosa di indefinito e quindi per non sembrare una faccia di merda davanti a voi mi metterò il cappellino adesso purtroppo ancora questo di natale perché non trovo più l'altro mio azzurro devo ancora comprarne uno ma sto già guardando su aliexpress un qualcosina di dorato da poter mettere nei video comunque oggi vorrei farvi vedere i ultimi acquisti volevo aspettare di avere qualcosa che potesse interessarvi un pochino di più di queste cose però sto accumulando un po troppa roba se mi conoscete sapete che io quando compro la roba l'appoggio su questo tavolo ancora prima di usarla spesso ultimamente sto usando un po di roba però poi la uso e la rimetto qua per non dimenticarmi di mostrarvela e quindi questo tavolo pian pianino tipo aumenta di volume e non riesco più a farci niente e quindi meglio che smaltiamo questa cosa ve le mostro perché appunto voglio farvele vedere anche perché oggi capirete veramente la mia malattia oggi sarete veramente testimoni della mia mania ossessivo compulsiva per lo shopping selvaggio estremo ma direi di cominciare mongolo che sono mi stavo dimenticando che oltre agli acquisti ci sono anche gli ultimi regali di natale che mi sono arrivati che vi faccio vedere per primi allora sono cose molto semplici perché con questi miei amici abbiamo deciso di fare cose comunque molto semplici senza spendere troppi soldi insomma di farci un pensierino il primo è questo profumatore per ambienti al pompelmo e acai 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 insomma a questa roba che non vedo l'ora di utilizzare ma visto che questi qui li utilizzo in camera e ne ho già uno tipo a metà aspetto di finire quello e poi aprirò questo poi mi è stato regalato questo qui che è fatto a mano ve lo faccio vedere meglio sembra tipo un folletto una cosa del genere molto bello poi fatto a mano io amo le cose fatte a mano con la faccina fatto sopra a questa campanellina ovviamente se notate i colori sono fatti apposta per me tutto l'oro che era possibile mettere qui è stato messo infatti c'è anche qui dietro questo fiocchettino e poi come vi ripeto le cose fatte a mano io le amo poi mi è stata regalata questa foto dove siamo appunto noi il nostro gruppetto di ossessionati dalle barbi questa qui vediamo se riesco a mostrarvela sì forse così ovviamente davanti c'è il mio faccione gli altri le ho un po tagliati perché come sapete quando io mi faccio i selfie sono leggermente un filo egocentrico e quindi insomma comunque questa foto è bellissima mi piace da morire e sono contento soprattutto che mi sia stata regalata con la cornicetta in modo che sia già pronta da mettere da esporre da insomma da appoggiare infatti questa era già in sala ma l'ho presa per farvela vedere poi mi è stata regalata questa sciarpa che è una di quelle sciarpe tipo super mega gigantesca che piacciono a me infatti se vedete qui non riesco a trovarlo dov'è questa è sì ciao questa qui è la larghezza della sciarpa non la lunghezza perché la lunghezza è ben più lunga e a me piacciono proprio queste sciarpe tipo così enormi sì non so cosa sto facendo vedere è super profumata perché insieme a questa mi hanno regalato anche questo profumo che è buonissimo di bottega verde ed è vaniglia nera questo qui ve lo faccio vedere lei stronza mette a fuoco molto semplice la boccetta da 30 mi pare non ho più la sua scatolina perché ovviamente io poi li espongo tutti in bagno sulle mie mensole senza ovviamente la scatola ma è buonissimo infatti se vedete ne ho già usato tipo un sacco perché lo metto tipo tutti i giorni è buonissimo poi 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 di regali mi sa che sono finiti sì questi erano gli ultimi regali che mi sono arrivati me ne manca ancora uno da ricevere ragazzi dal compleanno quindi dal 3 di settembre ma vabbè quando lo riceverò penso che cercherò di filmare quel momento giusto perché non lo so per ricordarmi di averlo ricevuto perché assurdo ma vabbè con lei è sempre una cosa un po particolare e non vedo l'ora comunque sono passato da primark cosa posso aver acquistato da primark se non delle merite stronzate delle merite stronzate appunto la prima è questa qui che però per essere una stronzata mi piace da morire è una scatola di latta con dentro dei cioccolatini di barbie e ci sono cioccolatini al latte oppure al cioccolato fondente che ovviamente quelli al cioccolato fondente non li mangerò mai perché mi fa cagare gli altri li farò fuori questa è la scatola che c'era fuori costava solamente 2 euro all'inizio ne costava 5 ma era scontato a 2 euro quindi avrei dovuto prenderne una valanga e i cioccolatini che profumo ecco però il profumo del cioccolato fondente il cioccolato al latte non ce l'avrà mai i cioccolatini all'interno sono fatti così hanno queste due bustine con diciamo le due barbie più iconiche la totally hair del 90 90 e qualcosa e la barbie la prima 1959 veramente molto belli e questa appunto mi piace da morire anche perché nel momento in cui finirò i cioccolatini che difficilmente appunto li finirò perché ci sono quelli al cioccolato fondente terrò comunque la scatolina di latta dove penso metterò gli accessori appunto di barbie prendo la roba a caso ho preso questa maglia da piazza italia sì l'ho presa solamente per un motivo adesso ve la faccio vedere meglio ma il motivo è questo cioè questo 3 euro ok ho pagato questa maglia 3 euro e mi piaceva perché è blu non so se si vedrà mai ho molti dubbi ma è blu quell'effetto un po' invecchiato con tipo i pallini neri insomma quell'effetto un po' roba vintage e davanti a questa scritta che è tipo una banda di silicone che si incollerà con il sudore alle tette probabilmente da aprile a novembre ma c'è scritto insta famous mi sembrava simpatica soprattutto per 3 euro non l'ho manco provata ma deve andare bene se non va bene ci pulisco le tende sempre da primark ho preso questa tazza che ho il dubbio devo avervela già mostrata però avendo il dubbio io ve la rimostro questa tazza di et costava 4 5 euro l'ho pagata 1 euro e 50 di qua c'è la scritta et e di qua invece c'è la luna con la sagoma dei lomino in bicicletta poi 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 cosa vi faccio vedere sì allora questa cosa qua ci vuole un minuto di silenzio che ovviamente non facciamo per non perdere tempo ma voi fate finta che abbiamo fatto un minuto di silenzio ho comprato lo smushing mamma smushing mamma quel cazzarola che è insomma questa cosa qua perché l'avevo visto da elisa di harley's chest e all'epoca costava un po tanto l'ho trovato tipo a 10 euro una cosa del genere ovviamente il kit quello grosso con dentro le bustine per provare e non avevo ben capito che fosse una cagata del genere praticamente dentro non succede niente non è tipo un fornelletto semplicemente qua dentro ci si mettono le robe si spremono le bustine che ci sono qua ve la faccio vedere così anche chi non le ha mai visti può capirlo praticamente ci sono queste bustine con dentro questa faccina va spremuta c'è un liquido che va spremuto va proprio rotta la pallina dentro mescolata insieme a tutto il resto poi va infilata qui girata e spremuta tutta dentro ma solo dopo averci messo questa roba qui all'interno che è tipo uno stampo e questa cosa dovrebbe fare degli squishy se vi dico che è una grandissima cagata anche se è fatto dalla mga mi credete questo è l'unica roba che sono riuscito a fare vi assicuro in video è bellissimo in video sembra una cosa stupenda guardate il retro che crateri meravigliosa o no bellissima e oltretutto c'erano dei pezzi che non si sono asciugati nemmeno dopo una settimana ho dovuto andare a toglierli uno schifo ecco ogni tanto devo tornare bambino anch'io e queste cagate mi ci fanno tornare però pensare di avere quattro pile qui dentro solo per avere questo fiocchettino che si illumina per il cazzo vabbè facciamo finta che io non li abbia mai spesi andando avanti la mia malattia ve la lascio per ultima vi volevo mostrare se vi ricordate vi ho detto che avrei voluto fare una poca ontas made to move e vi ho anche detto che grazie alla mia amica giulia ho scoperto che il corpo di una made to move andava bene appunto per la poca ontas anni 90 e allora visto che finalmente ho messo la testa a questa poca ontas cioè no allora ho messo il corpo a questa poca ontas volevo farvela vedere il corpo è semplicemente quello non ho ancora cambiato i vestiti i capelli essendo abbastanza discrete li ho raccolti in una treccia in modo da non rovinarli e devo dire che matcha perfettamente sì se andiamo a guardarla tipo sotto il sole o con la luce del telefono vediamo che il tono di colore è leggermente più scuro nel viso e più chiaro nel collo ma ragazzi è praticamente perfetta quindi adesso anche la mia poca ontas può fare la puttanella e sono contentissimo perché effettivamente una poca ontas puttanella non è mai stata prodotta e a me mancava ne sentivo proprio l'esigenza nell'anima sapete che ogni tanto passo al mercatino dell'usato dove ho trovato questo cd di cristina aguilera bionic lo cercavo da tipo quando è uscito ed è uscito nel 2010 quindi dieci anni o signore come passa il tempo già dieci anni che io cantavo bionic take a cybersonic insomma in dieci anni l'ho trovato adesso perché sono quei cd che si ti piacciono ma non sei troppo convinto di volerlo quindi 20 euro non glieli dai aspetti due euro due euro al mercatino dell'usato è praticamente nuovo quanto pare non l'ho ancora aperto sì qui davanti c'è un graffio perché ovviamente poi la gente li tratta come la merda quando sono lì però tranqui ne costava 12 90 e l'ho pagato due 12 90 già al mercatino e ho il terrore di aprirlo non è che magari adesso se lo apro dentro non c'è neanche il disco vediamo no 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 ok c'è il disco eccolo qua e ragazzi è nuovo di pacca non c'è un'impronta bellissimo fantastico bene 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 ok poi sempre al mercatino dell'usato ho preso una cosa che molti di voi neanche sapranno della sua esistenza qui nel veneto triveneto insomma dalle mie parti si festeggia molto santa lucia più che babbo natale al giorno d'oggi si festeggiano un po tutti e due o solo uno solo l'altro ma quando ero piccolo io diciamo che qua babbo natale non passava ci snobbava altamente perché passava già santa lucia santa lucia non passa il 25 di dicembre ma passa il 13 e si dice che sia cieca che insomma è un po una sorta di babbo natale disastrata poverina con mille problemi mille anni mille acciacchi è vecchia gobba brutta orba quindi ecco diciamo che è la versione horror di babbo natale ma a parte questo ho sempre avuto la curiosità di capire da dove nascesse il mito di santa lucia e ho trovato al mercatino dell'usato questo libro che si intitola santa lucia praticamente qui spiegano diciamo tutto devo ancora leggerlo ovviamente l'ho pagato 2 euro ne costava 10 dove praticamente ti spiegano l'origine di questa cosa ti spiegano come viene vissuta attualmente come ci sono delle filastrocche devo dire che sono quelle cose che mi piacciono un sacco perché fanno un po parte della mia cultura come ognuno di noi base a dove vive ha comunque le sue usanze che sono più o meno diverse da altri questa è una di quelle che c'è in veneto io ero veramente curiosissimo di scoprire questa cosa e quindi mi leggerò sicuramente questo libro non so quando magari fra cent'anni ma prima o poi lo leggerò questo non è il mercatino dell'usato ma comunque era tipo in super sconto e non so cosa sia è questo videogioco della playstation 3 sì io sono rimasto la playstation 3 quest'anno esce la 5 ma vabbè io intanto sono rimasto la 3 io arrivo diciamo con 12 anni di differita le cose questo gioco qua si chiama ninokuni ninokuni sembra quasi una parolaccia la minaccia della strega cinerea e questa è la copertina e già la copertina sembra carina sul retro questo è quello che ci fanno vedere e io non so cosa sia però ragazzi costava 64 euro io l'ho pagato un euro ok che è un gioco vecchio ma pagare un gioco della playstation un euro ho detto devo provarlo assolutamente sembra un gioco di ruolo animato non lo so si c'è anche scritto gioco gioco di ruolo animato insomma lo proverò se qualcuno di voi lo conosce mi scriva qui sotto nei commenti perché sì in questo video i commenti saranno assolutamente attivati come funziona se è bello se è brutto se ho speso un euro giusto per avere una roba in più che mi gira per casa oppure se è carino passiamo alle ultime cose sto correndo a bomba perché le robe sono tante quindi voglio farvele vedere bene tutte bene voglio farvele vedere ho preso il pacchettino da 5 bustine di frozen poi mi sono accorto in cassa che costava 5 euro quando ero piccolo io mi ricordo mio nonno che quando andava a comprarmi i pacchetti di figurine di sailor moon costavano all'incirca 500 lire e per lui erano tanti adesso costano un euro a pacchetto a e in un pacchetto non c'erano cinque figurine ma ce n'erano anche sei sette adesso ci sono cinque figurine in un pacchetto il pacchetto costa un euro cioè è follia e però ho detto vabbè dai almeno posso attaccare visto che l'album qualche figurina non lo finirò mai perché ragazzi c'è un euro a pacchetto poi trovandosi le doppie non sapendo con chi scambiarle diventa un bordello e quindi niente però dai o cinque pacchetti da quindi 25 20 stick non sono neanche 25 figurine sono 20 figurine più cinque card cioè quindi ho solo 20 figurine da appiccicare vabbè non ho parole va a cagare anche frozen restando in tema frozen mi faccio abbindolare da qualsiasi cosa che sia marketing fatto bene passo al supermercato vedo un espositore tipo grande come me sdraiato di roba di blu questo colore qui questo blu notte e vedo candele sento profumo vedo profumatori che spruzzano quelli questi qua appunto e poi a un certo punto noto che nell'immagine c'è una tipa bionda con la treccia a fianco la tipa rossa con i capelli raccolti ma sai detto che tra me e me che sembrano anna ed elsa guardo sotto la nuova fragranza glad per frozen 2 sembra buona perché sembra buona però non l'avrei mai visto probabilmente il mio inconscio mi porta da frozen 2 anche nelle cose dove io non guarderei mai fatto sta che questa fragranza è appunto quella fatta così per quei cazzini dove metti dentro lo spruzzano ogni tot e la profumazione è fiori freschi e chioli di garofano impreziosiscono questa fragranza inebriante le note d'incenso e ombra creano infine un contrasto mistico mistico con il profumo frizzante del rives nero fiori freschi potrebbero essere fiori di campo pieni di letame o fiori da fiorista che sanno solamente di erba oppure rose profumate fiori freschi non vuol mai dire una mazza ok e adesso passiamo a quella che è ufficialmente il mio problema ossessivo compulsivo la gente normale va a fare shopping e cosa fa compra vestiti compra cose utili scarpe non lo so magari gioielli cose per la casa oddio possono anche essere cose per la casa e io cosa compro candele ho speso una balanga di soldi in candele poi se ci penso ne ho spesi pochissimi perché era quasi tutto il 50 per cento ma ne ho prese troppe allora cominciamo per chi volesse chiudere il video può chiuderlo lo saluto ciao ci vediamo al prossimo e la prima ecco ovviamente tutte yankee candle perché ormai sono malato potrei mangiarmele a cena tipo prenderle col cucchiaio così mangiare da tante che ne ho questa è la prima la bayberry bayberry base sauvage come cazzo si legge sta roba comunque è un ritorno di una fragranza del 1970 l'etichetta è questa qui e vi dico che hanno usandola i miei amici mi hanno detto sa da vicinette sa d'accesso sa da schifo sa da pulito sa d'accesso sa d'autogrill wow a me piace l'unica cosa che l'ho accesa e si sente veramente pochissimo ok è vero io ho il salotto che è grande con i soffitti alti quindi si disperde però tante si sentono un sacco questa qui effettivamente si sente poco niente andiamo avanti ho preso la icy blue spruce se faccio ancora così va a finire che mi vola e io mi uccido questa qui è una delle festive quindi sa un po da pino quelle robe lì però non mi piace tanto infatti se vedete è una di quelle che sto usando di più così la finisco più in fretta è questa qui e non lo so ha un qualcosa di plasticoso che non mi fa impazzire questa ho il lato gli scorsi video hall e non ve l'ho mostrata ve ne ho mostrate talmente tante che non lo so questa è buona e si sente ed è la evergreen mist questa qui che è una di quelle nuove per questo natale cioè per lo scorso natale e non ho ancora finito siamo a tre e non ho ancora finito ho preso la christmas eve e questa è particolare perché è un po dolciastra molto leggera delicata questa qui l'ho messa il giorno in cui ho disfatto l'albero e messo via l'albero infatti mi ricorda un po' di tristezza quando l'annuso mi sembra di tornare al momento in cui il natale finisce io compro una candela che si chiama vigilia di natale e faccio in modo di associarla alla fine del natale problemi che no una che è tipo una bomba ma vi giuro penso che molti di voi potrebbero vomitare usando questa cosa perché un profumo effettivamente un po' forte è la trick or treat quella di halloween non sono riuscito a trovarla ad halloween ma come dico sempre bisogna solo aspettare poi le cose ci capitano davanti quando meno ce le aspettiamo se realmente le vogliamo e infatti me la sono trovata davanti al 50 per cento di sconto questa qui ragazzi è una bomba cioè è fortissima questa è la l'etichetta molto carina è un sacco speziata zenzero chiodi di garofano cannella zucca un sacco di quei profumi che sono proprio così cioè che o ti piacciono o sbocchi per me il limite è molto sottile arrivo fino a certo punto che dico wow passato quel punto dico e poi non sono finite una due tre quattro cinque ve lo già fate vedere madonna ragazzi che problemi ho ho preso questa qui sempre una yankee candle versione diversa questa è una della linea elevation non mi fa impazzire il packaging ma volevo provarlo questa qui ha tre stoppini all'interno non si vedrà mai si vedrà si si vede ha il tappo fatto di metallo perché questo tappo qui praticamente si mette sotto come piedistallo quando accendiamo la candela poi la mettiamo sopra e la chiudiamo questa qui è un'altra di quelle natalizie che era in sconto infatti è la holiday garland ghirlanda festiva ghirlanda delle feste una roba del genere e poi ve lo giuro ho l'ultima ve lo giuro è l'ultima questa qui una elevation questa è la versione media questa è la versione grande perché anche questa era scontata fatta nello stesso modo con il tappo che si mette sotto e bla 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 questa qui è simile a quella di halloween molto speziata pesa un fottio infatti mi si sta crepando il braccio comunque questa è l'etichetta e si chiama sweet orange spice molto 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 speziata e invece questa qui ha solo due stoppini quelle grandi hanno due stoppini le medie ne hanno tre le piccole ne hanno uno detto questo direi che posso respirare perché il video è finito vi ho fatto vedere tutto sì lo so ragazzi ho un problema cioè vi rendete conto che belle che sono non posso farvele vedere così adesso perché non riesco a prendere tutte ma non me le sto mettendo in ordine di colore le mie candele vabbè sì ciao do dei problemi e sì appunto parlavo proprio di quello quanto io sia ossessivo compulsivo con le candele ultimamente perché le accendo tutti i giorni mi piace un sacco mi rilassano alla sera è bellissimo fanno un'atmosfera carina ho tenuto anche una lucetta che avevo preso per natale in salotto quindi la tengo che fa un po effetto rilassante anche quella sto cercando diciamo di crearmi un po un mio angolino in casa dove la sera stacco il cervello da tutto infatti non so se avete notato ma anche da instagram in questi giorni ho dei momenti in cui sparisco un po perché non sto benissimo un po perché appunto ho bisogno comunque di staccare la testa o mettermi a guardare la televisione o attaccare le figurine di frozen o mettermi a fare un puzzle insomma staccare un po la testa da tutto e queste cose mi aiutano un sacco ho visto adesso che questa c'è scritto yankee candle company e queste no come mai beh lo scoprirò dopo comunque sì ragazzi so che oggi non c'erano tanti acquisti che potrebbero interessare un po tutti però insomma io come sempre voglio mostrarvi se non me ne frega niente fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto spero che gli scorsi video senza commenti vi siano piaciuti let me know come sempre se il video vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate la campanellina vi prego già è un periodo difficile per noi youtuber per noi creator vi prego almeno voi aiutateci iscrivetevi like campanellina e quello che potevate fare per darci una mano voi l'avete fatto vi prego se vi va seguitemi anche su facebook e soprattutto su instagram facebook è tipo morto però su instagram ci sono un sacco quindi seguitemi mi raccomando anche lì intanto ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video